A vedere La linea che per molti rappresenta il passaggio della vita terrena a quell'altra terrena A volte vieni spinto oltre ad essa o a volte ti ci porti Ti spingono oltre ad essa perché tu non rispondi alle loro provocazioni Oppure cadi oltre ad essa per semplici distrazioni Purtroppo ci ritroviamo sempre davanti A delle difficoltà che ci portano a superare la linea Dobbiamo vedere la linea gialla come la nostra narica Dobbiamo rispettarla perché lei è a dirci Abbiamo ridotto tutte le clip a un minuto circa Perché non volevamo approfittare della vostra pazienza